Come abbiamo pensato a questo evento, a questa suddivisione dello shape femminile per andare incontro alle esigenze della donna del 2000, una donna che lavora, una donna in movimento, una donna che vuole essere sempre al passo coi tempi. Quindi seguendo i consigli delle nostre clienti, dalle indicazioni che ci sono state date dai negozi, da un po' anche il mondo che ci gira intorno, le lamentere amiche, compagnia bella, abbiamo individuato tre shape, tre shape che si possono definire, noi le abbiamo chiamate in questo modo, diamante, sirena e perla. Diamante che va a valorizzare la vita e il busto e che hanno una autonomia regolare e andando accompagnare dolcemente il fianco che è magari in questo caso leggermente più appontante, portando così l'attenzione sulla parte superiore. La sirena che ha delle forme più regolari, quindi la vita, il vaccino e il seno regolari, ma al massimo la vita un pochino più ampia, con degli abiti particolari che vanno a valorizzare tutta la figura a longa linea. E poi la perla che è una vestibilità adatta per delle persone dalle forme un pochino più generose, quindi il seno e la vita un pochino più abbondanti da regolare, con delle shape completamente ben distinte tra di loro. E abbiamo fatto dei tubini fit prova proprio per accompagnare le clienti a capire questo discorso che noi vogliamo portare avanti, a sensibilizzare la cliente da questo punto di vista. Quindi lo stesso abito è stato creato diversificando i punti salienti delle shape. Quindi il tubino della sirena è abbastanza regolare, il tubino del diamante ha una forma leggermente più morbida a cui fianchi che va a valorizzare tutta la parte del gusto e la perla che va a accompagnare le forme morbide del seno e della vita. Nella collezione di motivi esiste già una percentuale di campi accompagnata da questi cartellini con questi simboli. In questo evento noi stiamo cercando di, assieme alle clienti, di individuare per ogni cliente la propria shape e rilasciare loro una carta d'identità, diciamo così, divertente, quasi un gioco in cui viene evidenzata la sua scelta. E la cliente può nei negozi scegliere da sola il capo più conforme alla propria vestibilità. Quindi sui cartellini entrando ci sono camicie, pantaloni, abiti con per esempio il cartellino diamante, la cliente sa che quello è il capo giusto come fit per la sua fisicità.